Ed eccoci ancora per un nuovo appuntamento con Medicina Regione Lazio. L'argomento di oggi è un argomento che è molto 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 in voga, si sente molto parlare di questo problema che affligge sempre una popolazione maggiore italiana e non solo. Ce ne parla oggi un medico ginecologo, il dottor Carmelo Parisi. Benvenuto dottore. Salve. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi ospitato. È un piacere. Allora, innanzitutto la prima informazione che vorremmo tutti avere, che cos'è esattamente questo papilloma virus? L'infezione da HPV rappresenta la più frequente infezione sessualmente trasmessa. Si conoscono circa 120 tipi di HPV di cui 40 sono patogeni per l'uomo. È un'infezione molto diffusa nelle popolazioni in generale se si considera che l'80% delle donne e una percentuale leggermente inferiore di uomini entrerà in contatto nel corso della propria vita con il virus dell'HPV. Il contagio è molto rapido con il 50% delle giovani donne che diventano positive entro i 3-4 anni dall'inizio dei rapporti sessuali. La percentuale di positività per il papilloma virus è di circa il 25% al di sotto dei 25 anni per stabilizzarsi poi intorno al 10% oltre quest'età. Si sente parlare di virus HPV a basso rischio e ad alto rischio. Si, di questi virus che sono patogeni per l'uomo possiamo distinguere i virus a basso rischio che sono quelli che determinano le lesioni proliferative benigne e quelli invece ad alto rischio che sono in grado di indurre una trasformazione neoplastica degli epiteli infettati. Però bisogna fare attenzione perché spesso si fa un errore importante, questo ci tengo a sottolinearli bene, che la presenza di un virus a alto rischio non significa assolutamente avere una malattia da papilloma virus e soprattutto avere una malattia importante. Certo. Nei tumori del collo dell'utero qual è il ruolo dell'HPV? L'HPV ha un ruolo fondamentale nei tumori del collo dell'utero se si considera che l'HPV è presente in oltre il 90% dei casi dei tumori del collo dell'utero. Non è solo il papilloma virus ma ci sono altri fattori favorenti quale per esempio il fumo di sigaretta, l'abuso di alcolici che possono favorire... Che sono i più frequenti che... Sì, 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 la presenza e l'azione patogene del virus e altri alzico fattori quali altre infezioni e quindi sono diversi fattori che naturalmente contribuiscono a generare questo tipo di neoplasia ma diciamo che l'elemento fondamentale è la persistenza del virus dell'HPV Intentendo come persistenza la presenza di un virus ad alto rischio per oltre due anni Diciamo che la persistenza di un virus ad alto rischio pone la donna ad un rischio 300 volte superiore di ammalare di tumori del collo dell'utero Per cui possiamo dire che la vera categoria a rischio di donne che possono ammalare i tumori del collo dell'utero sono donne che hanno un'età superiore ai 30-35 anni e che sono portatrici croniche dell'HPV Ho capito, chiarissimo. A questo punto come si contrae l'infezione d'HPV? L'infezione d'HPV si contrae essenzialmente con i rapporti sessuali, quindi contatto cute-cute, cute-mucose Il profilattico ha un'azione protettiva ma non assoluta nel senso che rimangono durante i rapporti sessuali delle aree scoperte in cui può essere presente il virus Il virus penetra nei tessuti attraverso delle piccole soluzioni di continuo che si hanno in seguito agli inevitabili microtraumi che insorgo durante i rapporti sessuali Si localizza a livello delle cellule dello strato basale dove può rimanere latente per molto tempo oppure esplicare la sua azione proliferativa e neoplastica Certo, quindi c'è un periodo di incubazione e questo periodo di quanto può essere? Ma il periodo di incubazione non è facile da definire perché il periodo di latenza del virus stesso può essere molto variabile Diciamo che normalmente il periodo di incubazione varia da 1 a 8 mesi Vi è poi un periodo di latenza fra l'infezione e l'insorgenza di lezioni preneoplastiche che è di circa 5 anni Mentre il periodo che deve è di intervallo fra una lezione preneoplastica e una neoplasia vera e propria è di circa un decennio Quindi questo periodo di evoluzione molto lungo ci consente in realtà di intercettare le malattie in fase preneoplastica Prima che diventino delle neoplasie vere e proprie Certo, dottore abbiamo parlato che questa è una malattia che riguarda principalmente la donna ma non solo Quindi è una malattia anche di coppia, si può definire così? Beh, essendo una malattia sessualmente trasmessa è inevitabile che sia una malattia di coppia L'uomo ha un ruolo importante perché nell'uomo l'infezione è spesso sintomatica però rappresenta una fonte di infezione per la donna Quindi ne deriva che la malattia deve essere affrontata in maniera globale e non solo a livello genitale Certo, un punto importante direi anche cruciale è la diagnosi, come si effettua la diagnosi? Ma per quel che riguarda la diagnosi essenzialmente nella donna è affidata ai programmi di screening e di prevenzione tramite il PAP test e l'HPV test Quando vi è un'anomalia agitologica bisogna ricorrere ad un esame di secondo livello che è la colposcopia Che si avvalida uno strumento, appunto il colposcopio, che ha un sistema di ingrandimento Che ci consente di identificare le lesioni HPV correlate e di fare delle biopsie mirate Certo Con la biopsia si asporta un campione di tessuto su cui è possibile poi effettuare l'esame istopatologico Che è il gold standard per la diagnosi di questo tipo di lesioni Chiarissimo Nei casi selezionati si può fare invece un esame molto sofisticato che è la microcolposcopia La microcolposcopia ci consente di superare i limiti della colposcopia Ci consente addirittura di studiare in vivo le cellule degli epiteli che rivestono il collo dell'utero Utilizzando dei coloranti vitali Ciò ci consente di studiare sia il canale cervicale che è inaccessibile alla colposcopia E sia di fare una diagnosi precisa della sede della lesione E questo è molto importante quando noi andremo a fare il trattamento escissionale Perché ci consente di essere molto precisi Quindi radicali nella sportazione della lesione Ma anche conservativi risparmiando il tessuto sano E questo è molto importante Quando noi soprattutto andiamo a trattare donne giovani Che non hanno completato il loro programma riproduttivo In cui il collo dell'utero svolgerà invece un ruolo fondamentale per la successiva gravidanza E invece per l'uomo? Per l'uomo non esistono dei test di screening Diciamo che la diagnosi è affidata alla peniscopia Che è un esame che consiste nell'osservare assolutamente non invasivo Nell'osservare i genitali esterni mediante il colposcopio Applicando una soluzione di acido acetico Questo esame ci consente di individuare delle lesioni che non sono individuabili ad occhio nudo E quindi delle lesioni in fase molto precoce L'altro test è l'HPV test Che ci consente invece di individuare la presenza del DNA verale Ma è un test che nell'uomo è ancora poco validato E presenta ancora degli aspetti che vanno chiariti Vanno meglio definiti Certo Come in tutti gli ambiti della medicina la prevenzione è fondamentale In questo caso come si attua la prevenzione? La prevenzione è fondamentale in questo campo naturalmente come negli altri campi Ma in questo campo è anche possibile fare prevenzione Innanzitutto bisogna affidarsi ai programmi di screening Quali PAP test e HPV test per la donna Bisogna conoscere quali sono i fattori di rischio Per esempio la promiscuità sessuale Il sesso non protetto Ma anche l'uso di fumo di sigarette e l'abuso di alcolici Possono favorire l'azione virale Abbiamo dopo oggi uno straordinario strumento di prevenzione Che è il vaccino Certo Il vaccino attuale Che è gratuito ricordiamo Il vaccino è gratuito in alcune fasce Adesso parleremo Il vaccino si dispone e si compone di 9 ceppi 7 ad alto rischio e 2 a basso rischio La sua efficacia è ormai ampiamente dimostrata Perché nel 2017 è stato pubblicato uno studio In cui il vecchio vaccino Che era un vaccino soltanto con 4 ceppi Ha ridotto l'incidenza dell'infezione dell'HPV Di circa il 90% dei casi In una fascia di età fra i 14 e i 24 anni Certo Il piano nazionale vaccinale Naturalmente offre il vaccino gratuitamente All'età di 12 anni Sia per i maschi che per le ragazze E poi è possibile fare una vaccinazione di recupero Per i maschi fino ai 18 anni di età E nelle ragazze a 25 smanio di età In occasione del primo pap test Però diciamo che non c'è una limite di età Per poter effettuare il vaccino E anche nelle persone che hanno avuto un'infezione Possono effettuare il vaccino Perché il vaccino protegge dalle reinfezioni Essendo il vaccino costituito da 9 ceppi Sette dei quali sono virus ad alto rischio Certo Quindi a un certo punto Fatta la diagnosi Qual è la terapia adatta? Per quel che riguarda la terapia Dobbiamo distinguere la sede e il grado della lesione Nel senso che per le lesioni di basso grado Visto che queste lesioni regrediscono spontaneamente In un'elevata percentuale dei casi Si può adottare un atteggiamento conservativo Cioè osservare, controllare Somministrando eventualmente Degli integratori Che favoriscono l'eliminazione del virus Da parte dell'organismo Quando invece l'infezione persiste Per oltre i due anni Oppure si localizza Per esempio all'interno del canale gerdicale Allora è più indicato un trattamento attivo Per le lesioni di alto grado Invece è sempre necessario Il trattamento escissionale Per esempio parlando del collo dell'utero Si fa riferimento alla conizzazione Sebbene ormai conizzazione è un termine obsoleto E si parla più frequentemente di escissione L'escissione ci consente di asportare Il testuto sede della malattia E avere così un esame istologico Completo e definitivo Bene, è stato chiarissimo Dottore io sarei ore a parlare con lei Perché l'argomento oltre che essere molto interessante E anche affascinante e utile Per i nostri ascoltatori Però siamo arrivati alla fine Ricordiamo che potete contattare Il dottor Carmelo Parisi All'indirizzo email carmeloparisi56 Chiocciola gmail.com E io la ringrazio tanto Grazie a lei Grazie a lei Al prossimo appuntamento Grazie a lei